Oh, cara, te lo sei tenuto dopo che l'avevi scoperto. Sì, ma solo perché gli ho creduto e ho avuto fiducia in lui. Se vuoi la mia opinione, i Bicham non mi sono mai piaciuti. Con i loro soldi credono di avere il diritto di calpestare i sentimenti di chiunque. Non mi sembra il momento di dire queste cose. Cara, quando vorrò la tua opinione, sta tranquilla, te la chiederò. L'ultima cosa al mondo di cui Amurella bisogna è un altro scandalo con Lorna protagonista. Non preoccuparti, ho intenzione di andarmene. Te lo puoi scordare, cara, dovrai rispettare il tuo contratto. Non me ne importa niente, trovati un'altra modella. Lorna, ti farò perseguire senza darti un attimo di tregua se non rispetterai l'impegno preso con noi. D'accordo, fai pure. Smettila di fare la ragazzina petulante. La Amurella e nessun altro può decidere quando la tua carriera di modella sarà finita. Guinette, adesso basta. Come osi rivolgerti a me con questo tono? Devi lasciarla in pace, non lo vedi che è disperata? Tu non ti devi mischiare, altrimenti ti ritroverai in un attimo senza lavoro prima ancora che la tua assunzione venga comunicata all'amministrazione. Non me ne importa niente, licenziami se vuoi, intanto vattene immediatamente. Oh, benissimo. Vado, voi due restate pure qui a leccarvi le ferite. Io devo annullare il servizio di oggi. Ma tu farei bene a portarla in ufficio domattina e lei dovrà recuperare il tempo perso, intesi?